Musica Quello di oggi è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Siamo stati da soli per mesi insieme alla comunità iraniana nel silenzio assordante, assoluto delle istituzioni, ma anche dell'informazione. Adesso qualcosa si è mosso, tutto questo non si deve fermare, deve andare avanti, perché la mano del boia di quello che sta accadendo a causa di questo regime teocratico, malvagio, violento, deve essere fermato. Aspetta anche a noi contribuire a fermarlo. Grazie. A te. Donna, vita, libertà. Donna, vita, libertà. Sempre, ovunque. Grazie. So, группa tutti. Ciao. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Grazie.